Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video di una serie di video lezioni di ripasso sulle strutture dati in linguaggio C o C++ Per quello che faremo in questi video non ci sarà molta differenza tra i due linguaggi anche se utilizzeremo in realtà il C++ Allora, iniziamo con alcuni concetti, un ripasso su alcuni concetti di base come il concetto di variabile In questa figura ho rappresentato delle casette perché voglio immaginare le variabili come delle casette ovvero ogni variabile è una postazione di memoria una serie di locazioni di memoria, una parte della memoria alla quale ho assegnato un nome ecco qui, guardate, la prima casetta con il tetto rosso ha un nome di A, è il nome della variabile e dentro questa casetta posso andare a mettere un dato che è il contenuto della variabile Siccome a secondo del tipo di dato potrebbe essere un numero intero, potrebbe essere un carattere, un numero con la virgola o anche qualcosa di più complicato a secondo del tipo di dato lo spazio, la quantità di memoria che il computer deve riservare per quella variabile è differente dobbiamo dichiarare, cioè dobbiamo dire prima quale sarà il tipo di dato che metteremo dentro la variabile ovvero dentro la casetta quindi nel dichiarare la variabile A in linguaggio C o C++ dirò per prima cosa il tipo di dato, ad esempio int che sta per numero intero poi il nome della variabile e poi scriverò un punto e virgola per terminare la riga questa è la sintassi in linguaggio C e di conseguenza anche in C++ per dichiarare una variabile così facendo il compilatore riserva uno spazio di memoria sufficiente a contenere un numero intero e lo associa al nome A quindi a questo punto io potrei mettere dentro la casetta che si chiama A un numero intero quindi potrei scrivere nel mio programma qualcosa del tipo A uguale 5 punto e virgola e quindi il dato quindi il contenuto all'interno della casetta della variabile che si chiama A sarebbe 5 se più avanti nel mio programma magari dopo altre operazioni decido di mettere nella casetta A un altro numero per esempio 6 perché chiaramente la impostazione di memoria non può contenere due numeri e di conseguenza verrebbe cancellato il precedente contenuto quindi il 5 e sostituito con il nuovo dato che è il numero 6 quindi una variabile una postazione di memoria una casetta nel mio esempio un dato del tipo che è stato specificato nel momento in cui abbiamo introdotto quella variabile dichiarato quella variabile chiaramente posso utilizzare teoricamente virtualmente tutte le variabili che voglio ognuna delle quali deve avere un nome qui vedete una fila di 3 casette che si chiamano A dentro le quali posso andare a scrivere i rispettivi dati supponiamo di averle dichiarate tutti e tre come variabili intere cancelliamo questo punto in virgola perché posso dichiararle tutte insieme così separando con la virgola i nomi delle variabili e quindi ho predisposto queste postazioni di memoria non ho dato un contenuto quindi in alcuni linguaggi di programmazione più gentili viene inserito uno zero in linguaggi un po' più spartani più brutali non viene modificato il contenuto della memoria che in quel momento sta in quella posizione quindi il contenuto è imprevedibile assegniamo dei valori per esempio B uguale 10 ok? sto scrivendo sulla stessa riga cosa che si può fare realmente in C il C non va da molto agli a capo C è uguale a meno 5 facciamo un esempio con un numero negativo perché i numeri interi in generale possono avere anche un segno a meno che non utilizziamo un altro tipo di dato che è l'unsigned int cioè l'int senza segno meno 5 bene tre variabili di nome A, B e C tutte e tre con variabili di tipo con dati di tipo intero ok vorrei continuare a riempire la mia fila di casette e fare un villaggio di casette però ognuna dovrebbe avere un nome differente A, B, C, D e dovrei generare io tutti questi nomi diciamo manualmente esiste un'alternativa ed è l'argomento di questo primo video utilizzare un array array in inglese sta per serie ok? per fila è una fila di variabili così come vedete in questa seconda parte della figura è una fila di casette che potrei anche realizzare come dicevo prima una per una ma se è un array lo realizzo tutto in una volta do un unico nome a tutto l'array ad esempio qui ho scritto una A maiuscola che è il nome di questa fila di case e allora per distinguere una casetta dall'altra utilizzo un numero un po' come una strada dove le varie case sono distinte dal numero civico quindi l'array immaginatelo come il nome della strada ok? tutta questa fila si chiama A e la singola casa è identificata da un numero che è un po' come il numero civico con alcune differenze intanto perché i numeri civici non cominciano da zero mentre qui il numero che identifica l'elemento dell'array che si chiama indice inizia da zero e inoltre nelle strade in realtà i numeri civici sono pari da una parte e dispari dall'altra mentre qui abbiamo un'unica fila con i numeri da zero in poi ma a parte queste piccole differenze l'analogia penso che funzioni abbastanza bene allora abbiamo questa fila di casette che vanno tutte sotto il nome di A è un array di nome A che contiene dieci casette dieci dati dieci variabili perché come vedete sono numerate da zero a nove quindi se le contate come facciamo noi esseri umani a partire da uno sono dieci bene come dichiariamo un oggetto del genere allora innanzitutto la sintesi somiglia molto a quella della variabile semplice perché si inizia sempre con il tipo di dato che andrà dentro ogni casetta devono avere tutti lo stesso tipo di dato quindi continuiamo a utilizzare i numeri interi andiamo sul semplice quindi scriverò int poi metterò il nome della variabile così come prima scrivevo int A perché volevo dichiarare una variabile semplice intera di nome A qui scriverò int A maiuscolo ricordiamoci che il C fa distinzione tra nomi maiuscoli e minuscoli quindi la variabile A piccolo è diversa dalla variabile A grande la variabile A grande nel mio esempio sarà un array int A se mi fermassi qui invece la variabile A grande sarebbe una casetta una singola variabile intera per far capire che voglio creare un array utilizzo le parentesi quadre le parentesi quadre le utilizzeremo molto con gli array le utilizzeremo per due scopi il primo è questo quando dichiariamo l'array ora dentro quelle parentesi quadre andrò a scrivere quanti elementi contiene il mio array il secondo utilizzo delle parentesi quadre verrà fra un attimo e servirà a scegliere una casetta tra le tante un elemento dell'array allora quanti elementi compongono il mio array abbiamo detto prima che sono dieci quindi dentro le parentesi quadre metterò dieci poi chiudiamo come al solito la riga col punto e virgola allora stiamo dichiarando un array che si chiama A maiuscolo che contiene variabili intere e quanti posti ha quante variabili intere contiene dieci questo dice al compilatore di prevedere uno spazio di memoria sufficiente a contenere dieci variabili intere ok lui ha bisogno di sapere quante variabili sto richiedendo perché deve riservare la memoria non la potrà modificare in seguito ok questo vuol dire che l'array ha una struttura dati statica quindi devo dire adesso quanta memoria voglio per il mio array il che significa quanti elementi costituiscono il mio array attenzione che quel dieci non indica l'indice dell'ultimo elemento che come vedete è nove perché si conta a partire da zero ma indica quanti sono gli elementi cioè banalmente è uno in più rispetto al nome all'indice detto meglio nell'ultimo elemento quindi con int a paramentesi quadre dieci sto dichiarando questo array questa fila di casette non sto dando i valori ai dati e come ha detto prima parla ai variabili questo in generale significa che il contenuto dell'array in questo momento è imprevedibile non posso fare alcun affidamento su questi valori ok qualche linguaggio come dicevo prima più moderno o anche meno diciamo spartano rispetto al c lo riempirebbe di zeri qui se lo voglio fare lo devo fare io autonomamente se adesso vogliamo identificare un singolo elemento per fare qualche operazione con questo elemento devo utilizzare il nome dell'array ovviamente e quindi identifico il gruppo di casette e poi il numeretto che si chiama indice corrispondente alla singola casetta per esempio a con indice 0 questa è l'addizione corretta rappresenta il primo elemento dell'array quindi vedete utilizzo le parentesi quadre prima le ho utilizzate in fase di dichiarazione per specificare quanti elementi volevo finita questa fase della dichiarazione siamo chiaramente più avanti nel nostro programma stiamo utilizzando un elemento dell'array allora utilizzo la parentesi quadra come diciamo operatore per accedere a un elemento dell'array il numero che sta dentro le parentesi quadre identifica l'elemento quindi a con indice 0 e questo elemento qui questa casetta qui quindi per esempio se lo scrivessi a con indice 0 uguale 8 sto assegnando all'elemento di indice 0 dell'array il valore 8 esattamente come con questa istruzione qui su a uguale 5 io assegnavo alla variabile a l'elemento 5 qui c'è solo il nome della variabile prima dell'uguale perché parliamo di una variabile semplice quindi ha un nome e basta e lei qui abbiamo invece prima dell'uguale l'elemento dell'array che è fatto in questa maniera a grande che è il nome della variabile array nel suo complesso e le parentesi quadre con un numero dentro che identificano a quale elemento dell'array a quale elemento dell'array mi riferisco allora questa istruzione cosa farà andrà a posizionare all'interno della prima casetta della mia fila perché l'elemento di indice 0 quindi il primo in linguaggio diciamo naturale il valore 8 io ho assegnato un numero intero perché l'array è stato dichiarato come array di interi se avessi dichiarato l'array come array per esempio di float cioè numeri floating point cioè numeri con la virgola poteva assegnare 3,14 3.14 con la sintassi corretta del linguaggio di programmazione quindi un numero decimale così come se avessi dichiarato l'array come array di carattere avrei potuto assegnare in quella posizione un carattere continuiamo a lavorare con i numeri interi intanto mi interessa di più che ci concentriamo sul concetto di array piuttosto che sui dati che ci andiamo a mettere se adesso vogliamo accedere a un altro elemento dell'array per esempio questo questa casetta qui che sto riempendo così per farla vedere meglio di blu è identificata dal numero 4 e la quinta come posizione perché c'è la 0 la 1 la 2 la 3 e la 4 allora se voglio riempire anche questa casetta con un dato scriverò a con indice 4 uguale e qui mettiamo il dato per esempio mettiamoci un numero a piacere 3 notate che le altre casette non le ho assegnate questo significa che ho riservato quella memoria sono elementi validi del mio array semplicemente non gli ho dato un valore quindi lì si trova i dati si trovano i dati che stavano in memoria nel momento in cui ho dichiarato l'array che sono dati per me non significativi quindi lì c'è sporcizia però posso assegnarli in qualsiasi momento sarebbe invece un errore cercare di accedere a un elemento che sta dopo quello di posto 9 perché io l'array l'ho dichiarato con 10 elementi quindi elementi da 0 a 9 quella è la memoria che gli è stata assegnata se io cerco di accedere all'elemento di indice 10 o anche oltre sto cercando di accedere a un'area di memoria che non è di mia competenza potrebbe contenere altre variabili del mio programma potrebbe anche andare fuori dallo spazio di memoria del mio programma e generare un'eccezione di sistema quindi chiaramente è un errore anche qui alcuni linguaggi di programmazione più facili fanno dei controlli quindi mi avvisano se sto cercando di fare una inadvertitamente una cosa del genere mentre il linguaggio C a parte qualche impostazione particolare che si potrebbe aggiungere in generale non mi avvisa il che può produrre effetti indesiderati difficili anche da individuare quindi l'errore di cui vi stavo parlando sarebbe una cosa del genere A di indice 10 uguale 7 questa istruzione è un errore scrivo errore come se fosse un commento con la doppia sbarra per farvelo vedere perché? perché sto accedendo o cercando di accedere a un ipotetico elemento che dovrebbe stare qui posto 10 notate che qui c'è 10 nella dichiarazione c'è 10 quindi a prima vista uno potrebbe dire vabbè ok ci siamo no perché nella dichiarazione metto il numero di elementi quindi non l'ultimo indice l'ultimo indice è uno in meno in questa istruzione sto utilizzando come indice 10 che è troppo perché l'ultimo indice valio è 9 se sono 10 elementi ovviamente ha maggior ragione se scrivessi a 11 a 12 e così via così come è ovviamente un errore scrivere a meno 1 che significherebbe cercare di accedere ad un elemento che sta qui quindi ancora una volta a una porzione di memoria che non mi è stata assegnata non per quella array certamente ok allora proviamo a utilizzare gli array tra un attimo passeremo al linguaggio di programmazione vera e propria ma ancora rimaniamo sulla lavagna e vediamo come posso riempire con dei dati tutti questi elementi del mio array senza però ripetere 10 volte l'istruzione di assegnazione il che è abbastanza noioso e se anziché 10 elementi parlassimo di 100 1000 o ancora più elementi sarebbe veramente impossibile chiaramente l'array col fatto che ha tanti elementi identificati da indici numerici si presta all'utilizzo insieme ai cicli for quindi cicli for ed array vanno molto ben insieme bene in questa seconda pagina della lavagna ho iniziato a impostare un ciclo for che adesso completeremo insieme immaginando di voler riempire tutti gli elementi dell'array che abbiamo dichiarato precedentemente con dei numeri scelti in base a qualche criterio vediamo un attimino di ricordarci come funziona un ciclo for un ciclo for serve a ripetere un numero prefissato di volte le istruzioni che costituiscono il corpo del ciclo cioè quelle che io adesso andrò a posizionare in tutta questa zona qui abbiamo il corpo del nostro ciclo for mentre qui abbiamo l'intestazione del ciclo for che è questa istruzione qui che adesso spiegheremo questa parentesi qua graffa che si chiude qui delimita appunto il corpo del ciclo for quindi tutto quello che io metterò tra questa parentesi e questa e quindi in buona sostanza tutto quello che metterò qui verrà ripetuto ok tutto questo si ripete ok si può anche omettere la parentesi graffa se il corpo è costituito da un'unica istruzione detto in maniera semplice ma non del tutto corretta se il corpo è un'unica riga perché su un'unica riga in realtà potreste trovare anche più istruzioni però senza andare troppo per il sottile se c'è una sola istruzione che costituisce il corpo cioè la parte che si deve ripetere nel ciclo for le parentesi graffe sono inutili non sono dannose le possiamo mettere se siamo in dubbio ma si potrebbero mettere allora se io voglio ripetere il corpo del ciclo for per esempio 10 volte devo impostare di conseguenza l'intestazione del nostro ciclo for vediamo inizia con la parola chiave for poi c'è una parentesi tonda che qui si apre qui si chiude e dentro la parentesi tonda ci sono tre istruzioni vedete ogni istruzione termina con un punto e virgola quindi le identificate da questo la prima parte che è quella che ho segnato il rosso che termina qui la seconda che è questa che termina qui e la terza ci possono essere delle variazioni rispetto a quello che vi sto scrivendo io ogni cosa si può fare in generale in più modi quindi non ci confondiamo e seguiamo innanzitutto questa metodologia allora se io voglio ripetere qualcosa 10 volte anche nella realtà beh mentre faccio questa qualcosa devo contare altrimenti non so se sono arrivato a ripeterlo 10 volte voglio battere la mano sul tavolo se comincio a fare così senza contare non saprò mai quando sono arrivato alla decima volta e mi devo fermare quindi mentre lo faccio devo contare 1 2 3 4 e così quindi anche il nostro programma deve contare per sapere quando ha finito le 10 ripetizioni visto che ne abbiamo scelte 10 in questo esempio e allora per contare ho bisogno di tenere a mente il numero quindi ho bisogno di una variabile e qui la variabile si chiama i è un nome che si usa spesso nei cicli for non è obbligatorio ovviamente posso chiamarla come voglio vedete qui c'è la variabile i allora mentre conto devo iniziare da un numero normalmente noi esseri umani quando contiamo iniziamo da 1 però un computer inizia può iniziare anche da altri valori il linguaggio c inizia da 0 come abbiamo detto prima a proposito degli array quindi devo dire da quanto voglio iniziare e devo anche dire a quanto mi voglio fermare e anche devo dire di quanto incrementerò il mio contatore il mio numero ogni volta che eseguo l'operazione quindi tornando all'esempio di me che voglio sbattere la mano dieci volte sul tavolo la cosa che farei normalmente è contare a partire da 1 fino a 10 con incremento di 1 ogni volta quindi direi 1 2 3 4 vedete incremento di 1 ogni volta e quando arrivo a 10 mi fermo il nostro programma farà qualcosa di diverso conterà a partire da 0 si fermerà a 9 perché se voglio fare 10 di ripetizione sono partito da 0 e devo fermare a 9 e chiaramente farà incrementi di 1 quindi conterà dicendo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 questo come facciamo a dirlo allora la prima istruzione nell'intestazione del ciclo for mi dice da quanto parte la variabile contatore i uguale a 0 notate che prima c'è scritto int ecco questo è quello che dicevo prima ci possono essere delle variazioni e la variabile i potrebbe essere una variabile che è stata dichiarata prima di arrivare al ciclo for int i questo significa che a questo punto quando inizia il ciclo for già il computer il compilatore conosce la variabile i e quindi non ho bisogno di questo int qua davanti quindi int i dichiarazione della variabile i se la voglio usare deve essere dichiarata for i uguale a 0 e così via utilizzo la variabile i come variabile contatore se però non ho dichiarato prima la variabile i o non voglio utilizzare quella che ho dichiarato prima questo magari approfondiremo più avanti se non ho dichiarato la variabile i la posso dichiarare mentre la utilizzo nel ciclo for quindi è un modo di condensare queste due operazioni dichiarazione e utilizzo quindi for int i significa che come variabile contatore utilizzerò una variabile i che ovviamente è di tipo intero e che sto dichiarando in questo momento uguale a 0 significa che la variabile i inizierà da 0 quindi conterò a partire da 0 chiaramente se la dichiaro in questa maniera la variabile i scompare non appena si chiude il ciclo for esiste solo tra qui e qui ok i uguale a 0 quindi la prima parte la prima istruzione nell'intestazione di un ciclo for serve a inizializzare la variabile i e in questo esempio serve anche a dichiararla ok quindi i partirà da 0 la seconda istruzione mi deve far capire mi deve far capire al compilatore finché fin quando deve crescere questa i quindi quando è che mi dovrò fermare io voglio fermarmi a 9 vedete che c'è scritto i minore scriverò i minore di 10 perché l'ultimo valore valido per la variabile i sarà i uguale a 9 minore di 10 il successivo valore di i sarebbe i uguale a 10 ok arriviamo a 9 abbiamo eseguito il nostro corpo della ciclo for per la decima volta quando i è 9 siamo alla decima volta perché siamo partiti da 0 i diventerà 10 ma non voglio più eseguire le mie istruzioni altrimenti sarebbe l'undicesima volta quindi finché i è minore di 10 eseguo le istruzioni del ciclo for ok quindi la seconda istruzione mi dice la condizione possiamo dire di continuazione cioè finché quella condizione è vera io vado avanti è vero che i è minore di 10 bene procedo quindi i uguale a 0 è vero che i è minore di 10 beh certo se è 0 è minore di 10 quindi vai eseguiamo il ciclo una volta poi i diventerà 1 è vero che è minore di 10 certo eseguiamo ancora le istruzioni e quindi è la seconda volta i uguale a 2 minore di 10 sì i uguale a 3 minore di 10 sì andiamo verso la fine i uguale a 8 è minore di 10 certo eseguiamo le istruzioni i uguale a 9 è minore di 10 bene andiamo avanti i uguale a 10 è minore di 10 no se è uguale a 10 non è minore di 10 quindi smetto di eseguire le istruzioni del corpo del cicloforo quindi il cicloforo l'avete eseguito quando gli vale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sto dando per scontato una cosa che ogni volta che eseguo le istruzioni poi cresce di 1 prima è 0 poi è 1 poi è 2 che è la cosa che voglio fare nella maggior parte dei casi questo si indica con questa terza istruzione i più più i più più significa che il ciclo sarà fatto con la variabile i che cresce di 1 ogni volta non vi elenco in questo momento perché non è l'obiettivo di questa lezione quali altre variazioni ci potrebbero essere per far crescere i a passi diversi da 1 o addirittura farle crescere quindi tornando alla nostra intestazione del ciclo for e riepilogando molto brevemente quello che ho detto la prima parte serve a dare il valore iniziale valore iniziale del contatore la seconda mi dà la condizione che è una condizione di continuazione cioè finché questa condizione è vera io vado avanti quindi non devo scrivere lì i uguali a 10 perché voglio smettere i uguali a 10 devo scrivere i minore di 10 perché voglio continuare finché è vero che i è minore di 10 e questo è l'incremento che potrebbe anche essere un decremento ok e allora compiliamo il nostro ciclo foro mettendo i dati manucanti i parte da 0 va avanti finché i è minore di 10 e cresce di 1 ogni volta ok vediamo cosa vogliamo farci con il nostro array utilizzando questo ciclo foro supponiamo che voglio riempire tutte le casette con un unico valore con lo stesso valore per esempio in tutte le casette vogliamo mettere 5 5 5 5 5 5 5 e così via qui l'ho fatto io manualmente ma adesso lo facciamo fare al nostro ciclo foro un po' più comodo no? i conta e vale 0 poi vale 1 poi vale 2 poi vale 3 e così via ad ogni ripetizione a con un certo indice che adesso vi chiederò di qual è lo poniamo pari a 5 perché 5 è il numero che ho scelto come esempio quello che voglio mettere dentro tutte le casette quindi ad ogni ripetizione del ciclo foro ci sarà una casetta che avrà il valore 5 ok quale casetta? beh i è la variabile che serve a contare le ripetizioni ma la posso utilizzare per tutto ciò che mi serve quindi i va benissimo come variabile che identifica prima la prima casetta perché vale 0 poi la seconda casetta perché vale 1 e alla fine del ciclo foro identificherà la decima casetta perché vale 9 quindi l'indice che metterò dentro questa casetta queste parentesi quadre certamente è i ecco questo è un esempio in cui avrei potuto omettere le parentesi graffe perché il corpo del ciclo foro è costituito da un'unica istruzione l'istruzione termina col punto e virgola ok allora rivediamo un attimino quello che succede all'inizio all'inizio del ciclo foro i vale 0 quindi scrivo qui accanto quello che avrei dovuto scrivere se non volessi usare il ciclo foro quindi quando i è 0 a di posto 0 lo mettiamo a 5 vedete il posto l'indice della casetta che vado a riempire è 0 perché sto riempendo la prima casetta ma 0 è anche il valore che hai quando ripeto per la prima volta la prima iterazione quindi quello che succede sulle mie casette è che a di posto 0 diventa pari a 5 dentro la prima casetta andiamo a mettere il 5 andiamo avanti col ciclo foro i diventa 1 quindi quello che adesso andrò a fare è che a di posto 1 è pari a 5 vedete l'indice il posto è sempre dato dalla variabile i che adesso visto che ci troviamo nella seconda iterazione vale 1 quindi questa unica istruzione verrà ripetuta per 10 volte ma non è che verrà ripetuta sempre esattamente identica perché quella istruzione contiene la variabile i che ha un valore che cambia sempre quindi quell'istruzione viene ripetuta come schema ma la prima volta viene ripetuta con i che vale 0 quindi quell'istruzione significa a di posto 0 uguale 5 la seconda volta viene ripetuta ma i vale 1 quindi quell'istruzione significa a di posto 1 uguale 5 la terza volta verrà ripetuta con i che vale 2 quindi a di posto 2 uguale 5 bene andiamo nella pratica adesso ho aperto un compilatore di cc++ o cc++ se lo volete pronunciare in inglese nel dato specifico è xcode di apple ma ovviamente quello che farò va bene con qualsiasi compilatore cc++ ho diciamo impostato uno schema di programma molto semplice utilizzerò la libreria iostream per l'input output questa è un'altra libreria che in realtà non utilizzerò almeno non da subito quindi per adesso la togliamo poi c'è l'istruzione using namespace std che come dovreste sapere mi evita di dover specificare il namespace lo spazio dei nomi std cioè standard che precede tutte le istruzioni di input out ad esempio quindi c in c out e così via quindi mi consente di snellire un pochettino la scrittura del programma e poi vedete che è stata scritta una funzione principale main molto semplice la main è una funzione che come sapete viene eseguita immediatamente all'avvio del programma in alcuni compilatori deve essere dichiarata di tipo void in altri deve essere di tipo intero in questo caso l'ho dichiarata di tipo intero e quindi vuol dire che mi aspetto che restituisca un risultato intero del quale ovviamente a noi per i nostri esempi non interessa nulla e però devo mettere return zero alla fine della funzione perché deve formalmente restituire un risultato intero del quale appunto ripeto non ce ne faremo niente bene se eseguo il programma lo facciamo giusto per provare a compilarlo non succede assolutamente nulla facciamo un'altra prova molto semplice scriviamo un seeout e scriviamo ciao a tutti così abbiamo fatto la nostra prova tipica dell'Hello World per vedere se il nostro programma gira sto scrivendo ciao a tutti e poi quell'end l a seguire dice di andare a capo eseguiamo il programma giusto per verificare che il compilatore funzioni vedete qua sotto non in una finestra separata ma in questo caso lo vedrete con lo spazio da sotto vediamo l'output del programma la scritta ciao a tutti e poi in automatico aggiunge quella stringa per dirmi qual è il codice di uscita che è proprio lo zero che non abbiamo restituito non ci interessa ok allora facciamo un esempio simile a quello che vi ho mostrato prima sulla lavagna abbiamo bisogno di un array un array che si chiama A allora lo potrei dichiarare dentro la funzione main ma preferisco per gli esempi che ho in mente di farvi dichiararlo fuori dalla funzione main quindi nello spazio globale delle variabili che tra l'altro è anche più capiente rispetto a quello che attiene una singola funzione allora dichiariamo una variabile di tipo intero di tipo intero di nome A maiuscolo non fate caso al suggeritore perché scriverò passo passo tutto quello che ci serve e non fate caso agli errori che vengono messi in diretta in questo caso l'errore è perché non ho ancora messo il punto in virgola ma è chiaro perché mi sono fermato per parlarvi allora int perché sto dichiarando una variabile di tipo intero A è il nome della variabile se chiudessi col punto in virgola a questo punto la dichiarazione avrei dichiarato una singola variabile di nome A maiuscolo come erano le variabili A minuscolo B minuscolo e C minuscolo nella lavagna che avete visto prima in realtà io voglio dichiarare un array quindi devo mettere prima di chiudere l'istruzione col punto in virgola delle parentesi quadre e all'interno devo scrivere un numero intero positivo che mi dice quanti elementi costituiscono il mio array perché l'array come dicevo prima è una struttura dati statica e quindi ha un numero di elementi che salvo diciamo modi di programmare un po' creativi è fisso all'inizio del programma e rimane quello allora in questo modo ho dichiarato una variabile A di 10 elementi bene riempiamo questa variabile con dei dati allora cancelliamo questo e facciamo un cicloform che utilizza una variabile i scrivendo esattamente lo stesso cicloform che avete visto prima sulla lavagna quindi il cicloform utilizzerà una variabile contatore i che dichiaro contestualmente all'interno del cicloform la faccio iniziare col valore 0 la farò andare avanti finché è vero che è minore di 10 quindi si fermerà al valore 9 e ovviamente si incrementa di 1 ad ogni iterazione vedete che ho messo la parentesi di graffa aperta e qui la parentesi di graffa tutta quello che scriverò qua verrà ripetuto A con indice i è uguale a 5 in questo modo ho ripetuto esattamente quello che prima vi ho mostrato dalla lavagna vogliamo vederlo in pratica quello che abbiamo fatto? beh per vederlo devo eseguire il programma ma in realtà se adesso eseguo il programma non vedo un bel nulla perché è vero che è stato assegnato il valore 5 ad ogni elemento dell'array se ho proceduto bene ma non ho mai detto al programma di mostrarvi l'array quindi per vedere se quello che abbiamo fatto è corretto aggiungeremo qualche riga per dire al programma di scrivere a schermo tutti gli elementi dell'array e anche per questo utilizzeremo un cicloform perché io posso stampare un singolo elemento dell'array per esempio stampando l'elemento di posto 0 vedete se eseguo il programma vedrò un 5 no? perché vedrò la stampa dell'elemento di posto 0 che è 5 perché prima li ho assegnati tutti al valore 5 ma questa istruzione che stampa un elemento dell'array la voglio ripetere 10 volte quindi ancora una volta for int uguale a 0 il minore di 10 stessa intestazione esatta del cicloform stampiamo l'elemento dell'array però attenzione in questo momento lì c'è scritto che io mando in stampa a di posto 0 stamperei sempre l'elemento di posto 0 io invece voglio stampare uno per uno tutti gli elementi dell'array quindi quando i è 0 la prima iterazione voglio stampare a di posto 0 quando i è 1 seconda iterazione voglio stampare a di posto 1 e così via quindi voglio stampare la a di posto dato dalla variabile i la a di posto i quindi a di posto i la mani a mi stampa esattamente per lo stesso principio per cui prima quando assegnavo assegnavo la a di posto i e non la a di posto 0 che sarebbe stato sempre lo stesso elemento se eseguiamo dovrei vedere tutti gli elementi dell'array stampati uno sotto l'altro perché ogni volta vado a capo e dovrebbero avere tutti il valore 5 bene sono elementi diversi come posizione ma hanno lo stesso valore cambiamo un po' le cose quando qui ho assegnato 5 a tutti gli elementi dell'array ad ogni elemento dell'array anziché assegnare lo stesso numero facciamo dipendere il numero da quale elemento che assegno quindi la farò dipendere da i per esempio se dicessi a di posto i uguale a i ma questo significa che nell'elemento di posto 0 ci vado a mettere il valore 0 l'elemento di posto i dove i è l'indice cioè questi numeri qua sotto li assegno come valore i quindi lo stesso numero che rappresenta l'indice lo vado a mettere dentro la casetta come dato quindi a di posto 0 viene uguale a 0 a di posto 0 diventa uguale a 0 a di posto 1 diventa uguale a 1 quindi a di posto 1 adesso contiene 1 a di posto 2 contiene 2 e così via se torniamo al nostro programma e lo eseguiamo vedete ho cambiato qui l'assegnazione la stampa non la devo cambiare e vedrò una fila di numeri da 0 a 9 sembra una cosa che si può fare in tante maniere ma in realtà è stata fatta in questo modo i numeri sono stati messi dentro gli elementi di un array mettendo in ogni elemento il numero corrispondente al suo indice quindi il numero i che è l'indice lo metto anche come dato sta a destra dell'uguale e poi li stampo possiamo anche fare qualcosa di più elaborato con questa i per esempio in ogni elemento dell'array ci mettiamo i per i quindi il prodotto di i per se stessi il quadrato di i questo significa che nell'elemento di posto 0 ci metterò 0 al quadrato nell'elemento di posto 1 ci metterò 1 al quadrato nell'elemento di posto 2 ci metterò 2 al quadrato nel posto 3 3 al quadrato e così via ops sì questo è 25 bene allora andiamo avanti vediamo in pratica a di posto i è uguale a i per i istruzione che ripeto 10 volte per eseguirla per ogni valore di i quindi per ogni elemento dell'array eseguiamo il programma e vediamo una fila di numeri 0 1 4 9 16 25 che sono i quadrati dei numeri da 0 al 9 bene prima di passare ad esempi più complicati organizziamo un po' meglio la struttura di questo programma cominciamo da questa considerazione io ho utilizzato come esempio un array A dimensionato per 10 elementi vuol dire come abbiamo visto all'inizio che ho riservato 10 postazioni di memoria per questo array ciò significa che se andando avanti avessi la necessità di inserire un undicesimo elemento non potrei farlo una tecnica che si usa per risolvere questa questione cioè il fatto che l'array ha una porzione di memoria statica che non può essere ampliata successivamente è quello di dimensionare in eccesso la memoria ad esempio se io prevedo 100 posti per l'array A e all'inizio ne utilizzo solo 10 significa che avrò 90 posti che rimarranno inutilizzati o che magari potrò in parte utilizzare successivamente quindi non è detto che la dimensione che assegna l'array sia uguale al numero degli elementi che effettivamente intendo utilizzare dell'array potrebbe essere una dimensione in eccesso e il numero di elementi effettivamente utilizzati minore allora dimensioniamo l'array A per 100 elementi e indichiamo con una variabile n di tipo intero il numero di elementi che sto utilizzando al momento ad esempio n uguale a 10 quindi ho dimensionato l'array A per 100 elementi ma di questi 100 elementi ne utilizzerò solamente 10 almeno all'inizio questo mi darà la possibilità andando avanti in questa serie di video di ampliare il numero di elementi dell'array nel senso che i 10 iniziali potrebbero diventare 11, 12, 13 ma ovviamente non possono superare i 100 della dimensione che ho assegnato in fase di dichiarazione quindi abbiamo un array A dimensionato per 100 elementi e una variabile n che vale 10 in questo momento che conta gli elementi che io sto effettivamente utilizzando nel mio ciclo for che riempie gli elementi dell'array allora anziché arrivare fino a 10 arrivo fino a n è esattamente la stessa cosa perché in questo momento n vale 10 però è più pulito e più chiaro quindi ripeto per n volte l'istruzione che assegna all'elemento A di posto i il valore i per i i al quadrato nella funzione che nella parte di programma non è una funzione in questo momento che stampa l'array anche in questo caso anziché 2 era 10 arriva a n se eseguo il programma non dovrebbe essere cambiato assolutamente nulla rispetto allo scorso esempio perfetto il programma funziona esattamente la stessa maniera solo che dietro le quinte succede leggermente qualcosa di leggermente diverso cioè l'array che è dimensionato per ben 100 elementi nonostante il fatto io ne utilizzi solo i primi 10 mentre prima avevo un array dimensionato per 10 elementi che sfruttavo tutto per adesso non cambia nulla però ci prepara ai successivi esempi un'altra cosa che volevo mettere a posto prima di andare avanti è la stampa dell'array che in questo momento è affidata a queste tre righe semplicissime voglio utilizzare invece una funzione di stampa dell'array che ho preparato prima perché non è l'obiettivo di questo video spiegarvi come è stata scritta questa funzione ed è una funzione che mi permette di visualizzare l'array in questa forma ovvero con questi trattini che ricordano le casette o le caselline degli elementi dell'array i numeri in alto sono gli indici quindi vedete che nell'elemento di posto 0 ci sta 0 nell'elemento di posto 1 ci sta 1 nell'elemento di posto 2 ci sta 4 perché abbiamo messo in ogni elemento di posto i il valore i peri quindi i al quadrato e così via quindi visualizziamo un po' meglio l'array ovviamente per piccole dimensioni bene una volta messo a posto diciamo questi dettagli del programma abbiamo le dichiarazioni abbiamo void stampa che è questa funzione che si occupa di stampare l'array nella quale non entreremo la funzione dà per scontato che l'array si chiami a non lo prende come parametro quindi è tutto molto semplice la chiamo qui scrivendo semplicemente stampa riempiamo in una maniera un pochettino più elaborata questa array e potremmo fare come esempio la serie di Fibonacci la serie di Fibonacci è una serie matematica che si genera in questa maniera si parte dal primo elemento che vale 1 il secondo elemento che vale 1 dopodiché ogni successivo elemento si calcola facendo la somma dei due precedenti quindi se il primo è 1 e il secondo è 1 il terzo elemento molto banalmente è 2 che si ottiene facendo 1 più 1 il successivo elemento si segue sempre la stessa regola è la somma dei due precedenti quindi se voglio l'elemento che sta qui devo fare la somma 1 più 2 e viene 3 il prossimo elemento è la somma tra 2 e 3 e viene 5 ancora abbiamo 3 più 5 è 8 poi 5 più 8 13 8 più 13 abbiamo 21 come vedete ogni elemento è la somma dei due precedenti 21 più 13 fa 34 e così via la serie ovviamente prosegue all'infinito riempiamo l'array A che ha 100 elementi ma noi riempiremo i primi 10 perché N è 10 questo numero poi possiamo successivamente cambiare e in questa maniera seguendo la regola della serie di figuracci la regola che vi ho esposto ha due casi particolari cioè il primo elemento che vale sempre 1 e il secondo elemento che vale sempre 2 dal terzo elemento e poi c'è una regola che poi si ripete per sempre somma i due precedenti questo mi dà modo di giocare un po' in maniera un po' più interessante con gli indici quindi vedere se vi è chiaro questo concetto allora abbiamo il primo elemento lo assegniamo noi di arbitrio perché sappiamo che vale 1 il primo elemento si chiama A di posto 0 perché ricordiamoci che gli indici iniziano da 0 e vale 1 per regola il secondo elemento si chiama A di posto 1 e vale 1 anch'esso sempre per regola assegnata dal successivo elemento non dovrò più assegnarli 1 per 1 numericamente perché darò una legge che si ripeterà e quindi mi serve un ciclo for che stavolta però non deve partire da 0 perché non ho bisogno di assegnare l'elemento di posto 0 non deve partire da 1 perché non ho bisogno di assegnare l'elemento di posto 1 partirà da 2 quindi farò un ciclo for in cui la variabile contatore i parte da 2 perché ho intenzione di assegnare l'elemento di posto i cioè di posto 2 e successivamente questo i che vale 2 crescerà vedete i più più fin tanto che si mantiene minore di n quindi se è nel 10 questo i varrà 2 poi 3 4 5 6 7 8 9 quindi arriverò all'elemento di posto 9 della serie cioè il decimo perché siamo partiti da 0 a contare e vedremo questa serie scritta nel nostro array allora a di posto i dove i inizialmente è 2 per calcolare l'elemento della serie di Fibonacci devo andare a guardare quanto vale il suo precedente quanto vale il precedente del precedente e poi sommarli quindi a di posto ora vediamo più a di posto ora vediamo questi posti che ancora devo scrivere sono due posti indietro rispetto a i e un posto indietro rispetto a i se i vale 2 per andare indietro farò i meno 1 1 e ancora indietro quindi un altro meno 1 quindi i meno 2 e andrò a 0 quindi i due posti che devo considerare sono i meno 2 che significa due posti indietro rispetto a i e l'altro elemento che mi interessa è i meno 1 quindi ottengo un elemento della serie sommando i primi due chiaramente questa regola non potrei applicarla con i che vale 0 o con i che vale 1 perché i meno 2 varrebbe un numero negativo quindi l'elemento 0 devo assegnarlo fuori dal ciclo 4 perché è un caso particolare l'elemento 1 devo assegnarlo anch'esso fuori dal ciclo 4 dall'elemento 2 in poi posso procedere con questa regola abbiamo la chiamata la funzione stampa che in quella forma che avete visto prima mi stampa l'array e possiamo provare se ho operato correttamente ok vedete questa è la serie 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 si è fermata perché abbiamo costruito un array di 10 elementi successivamente a questo abbiamo altre posizioni di memoria che io ho riservato per l'array ne ho riservate 100 ma che non sto stampando perché la routine stampa si ferma al valore n che è quello significativo bene proviamo a cambiare il valore di n lo mettiamo a 20 così costruiremo e stamperemo i primi 20 elementi della serie beh in questo caso la funzione stampa non è che fallisce ma lo schermo chiaramente con questi caratteri grandi non ha spazio per visualizzarlo tutto e allora fermiamoci a 15 vediamo se con 15 ce la facciamo se no dovrei ridurre la dimensione dei caratteri vabbè con 15 ci siamo anche se non allinea bene i numeri ma è una routine molto rudimentale l'obiettivo del video è lavorare con gli array sull'output si può migliorare in tante maniere 55 era l'ultimo elemento che avevamo visto prima dopo c'è l'89 144 233 e così via fino a 610 bene questo primo video in cui abbiamo fatto un ripasso un'introduzione abbastanza semplice agli array termina qui nel successivo video lavoreremo in maniera più interessante con gli array e vedremo gli algoritmi per la ricerca di elementi all'interno di array per l'inserimento per la cancellazione di elementi e ancora più avanti vedremo qualche algoritmo di ordinamento per adesso vi saluto se avete dubbi o domande scrivete pure e cercherò di rispondervi ciao a tutti grazie a tutti